E vediamo, ecco la partenza Siamo alla via della Maratona delle Dolomiti Questa è l'immagine suggestiva Michiel chiaramente Abbiamo visto l'highlights Max Lelli Qui siamo sulla prima parte del Campolongo E dove sono transitati molto velocemente Ricordiamolo il passaggio al Campolongo Primo Florian Novak Davanti a Franza Payser E in terza posizione Roberto Cesaro Qui dopo la discesa e qui Le bellissime immagini anche dal nostro elicottero Le camere anche poste sulla bicicletta E bellissime successive davvero queste immagini Qui siamo invece al transito dei migliori Dei primi proprio sul passo Pordoi 2239 metri E qui invece siamo all'inizio Sempre con i nostri highlights Del passo Sella Dalle prime rampe che porterà i corridori a passo Sella